Io posso dire questo, se un seggiolino come questo fosse stato installato nell'auto la bambina non moriva, non è possibile. Da una semplice telefonata dell'asilo che potrebbe essere resa obbligatoria ad un seggiolino salva bimbi il modo c'è e come di evitare o perlomeno provare ad evitare tragedie come quella di Castelfranco dove la piccola Tamara di appena 18 mesi è morta, dimenticata in auto dalla madre. Il progetto del seggiolino che addirittura manda un sms se si lascia il figlio in auto è del 2013, lo hanno inventato gli studenti dell'allora Isis Fermi di Bibbiena premiati anche dal CNR. Prevede vari tipi di allarme e vari livelli, dall'azionamento del clacso, lampeggio delle frecce, apre i vetri in caso per areare l'ambiente e dopo se non bastasse invia anche dei messaggi, degli sms al babbo, la mamma, lo zio, al nonno. Quattro lunghissimi anni che hanno portato via vite innocenti che potevano essere salvate. Negli Stati Uniti questo tipo di incidente provoca mediamente 38 morti all'anno e ancora nessuno che si fa avanti per produrre il seggiolino. Ne hanno parlate del nostro seggiolino ricordate di me proprio in Parlamento però poi non è stato approvato niente di definitivo. Siamo stati contattati dalla regione toscana l'anno scorso, anche ora abbiamo dei contatti, speriamo che sia la volta buona e che riusciamo a fare qualcosa di concreto. Vorremmo avere la soddisfazione un domani di dire una mamma ha dimenticato un bambino in macchina e il seggiolino è intervenuto salvandolo. Questa sarebbe la grossa soddisfazione.